musica che a me è sempre piaciuta fin da quando ero ragazzino e quindi ho cercato di mettere insieme una band che potesse riproporre queste canzoni bellissime del cinema italiano, un cinema che francamente non ha tempo e quindi vado a presentare i musicisti il maestro Federico Tassani al trombone, Andrea Guerrini alla tromba, Daniele Marzi alla batteria, Luciano Corcelli alla chitarra, Samuele De Tossem Gambarini all'organo Emmond e Emanuela Grassetto al violino, la musica la lascio a loro, buon ascolto. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!